La grande corsa è finita e durata la bellezza di 11 anni, un mese e 28 giorni, ininterrottamente. Jean Baliveau è tornato a casa a Montreal, in Canada, la sua città. Dopo 75.000 km, 64 stati percorsi, 4.076 giorni e 49 paia di scarpe. Un tempo che fa impallidire i miseri tre anni di Forrest Gump. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre! È un grande momento, un momento unico. Ecco, il nostro eroe è pronunciare le solite parole, dette da sempre dopo ogni traguardo. Di Forrest Gump ha lo stesso improvviso impulso a correre. Nel film fu la delusione per le mancate nozze con Jenny. Per Jean combattere semplicemente la depressione dopo il fallimento della sua azienda. Ha incontrato sconosciuti ed è stato ricevuto da quattro premi Nobel. È diventato famoso. La sua impresa è cresciuta ed è stata inserita tra le iniziative per la pace dell'UNESCO. Come Gump, l'agente lo ha preso ad esempio. Anche lui è stato seguito da uno stuolo di fan. Ma anche lui ammette più volte di non sapere per quale motivo corra. Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora.